Io ho scritto le poesie, se nel mondo esistesse un po' di bene e ognuno si considerasse suo fratello ci sarebbe meno pensieri e meno pene e il mondo ne sarebbe assai più bello. Ma ora siamo davanti alla corte d'assise e lei è imputato di 16 omicidi, allora vorrei ricordarle che lei di questo si deve occupare. Grazie